Buongiorno a tutti, il video di oggi è dedicato alle persone che hanno problemi di allergie perché questa dieta vi può veramente aiutare, metterò un link nella descrizione qui sotto Preriscaldate il vostro forno a 225 gradi centigradi scegliendo la funzione grill ventilato, come faccio io, se volete che il vostro cavolfiore sia gratinato in superficie Dopo averlo pulito e aggiunto olio e sale alla teglia, è il momento di tagliare il cavolfiore a fettine Sistematelo con cura in modo che le fette non si sovrappongano poi spolveratele con sale e abbondante parmigiano in scaglie Spero che la mia facilissima ricetta chetogenica vi sia piaciuta e che vi iscriviate al mio canale A presto! Dopo soli 15 minuti avrete questo fantastico contorno chetogenico A presto!